Ben trovati, si voterà a febbraio. Questo è un dato certo, malgrado la strategia di Monti di passare per vittima, perché dice un giorno sì e un giorno no, forse ci sarò, come ci sarò, probabilmente aspira al colle più alto, al Quirinale, anche se c'è sempre l'incognita Mario Draghi. Ma cosa voleva dire Bersani ieri in quell'affermazione che Monti ci deve essere, ma deve essere fermo e tranquillo? Questo è dire levati dai pieti, perché il Presidente del Consiglio devo essere io e tu vediamo se riusciamo con il prossimo Parlamento a mandarti a fare il Presidente della Repubblica. Cosa succederà? Lo vedremo nelle prossime settimane. Il dato certo, certissimo purtroppo, certificato non solo dall'Istat, ma anche da Confindustria, che aumentano i disoccupati, le aziende sono sempre più in crisi e la pressione fiscale ufficialmente figura al 54 e rotte per cento, ma poi è anche più alta, perché noi paghiamo tasse su tasse, paghiamo anche tasse quando compriamo le banane, questo è l'altra certezza e il negativo che abbiamo in questo momento drammatico. E poi ritorna questa parola meravigliosa che sino a un anno fa era sconosciuta anche dai parlamentari, ricorderete le Iene che nell'intervistare anche i deputati Salentini, questi non riuscivano a dare un valore e una definizione allo spread. Sì, ritorna lo spread, l'incognita spread, la minaccia spread, perché ritorna Berlusconi. E allora forse lui ha avuto anche parzialmente ragione dicendo che è stata creata questa malattia perché doveva essere fatto fuori lui. Io non vorrei ora che realmente il dibattito ricadesse nuovamente sulle colpe vere o presunte dell'ex premier oggi, almeno al momento, ricandidatosi, perché non ci sarebbe una crescita politica della nostra Italia. Certo è tutto un paradosso, ma è un paradosso non Berlusconi soltanto, è un paradosso Bersani che sta da 30 anni in politica, è un paradosso Rosi Bindi, è un paradosso Gianfranco Fini che da 30 anni è parlamentare e vuole fare la morale agli altri, è un paradosso anche chi viene da fuori rispetto alla politica ma che ha vissuto il sistema politico nazionale ed economico. L'unica cosa ancora più paradossale è che noi dobbiamo subire questi signori, tutti questi signori, in un momento così drammatico della nostra vita. Come si fa a superare una crisi economica? L'altra verità è che da quando è nata l'Eruo tutti i paesi dell'Europa sono in crisi. L'unico paese che gestisce e dalle carte è la Germania per un semplice motivo, perché ha ottenuto i nostri soldi e i soldi della Grecia, della Spagna e di tutte le nazioni partecipanti alla Comunità Europea per la sua riunificazione e oggi ci sta pian piano spolpando. Per cui qualcosa che non ha funzionato c'è. Ora, non voglio fare l'anti-europeista, ma certamente coloro che hanno gestito la nascita e la crescita dell'Europa Unita hanno svenduto i nostri sederi, pur di fare i loro interessi e gli interessi di alcune lobby economico-finanziare. Questa è un'altra verità che è indiscutibile, ma ritornando in Italia e attendendo le elezioni politiche, noi nuovamente inizieremo ad ascoltare, forse anche in modo, secondo me, irriguardoso, gli attacchi verso Silvio Berlusconi, che ripeto, avrà sbagliato, avrà troppe volte non fatto ciò che ha promesso dal 94 ad oggi, ma sbeffeggiare sempre e serenamente un ex capo del governo, ma lo si faceva anche quando era primo ministro, è giusto o non è giusto, secondo voi, che la litizzetta geniale, straordinaria, debba essere così irriguardosa? È giusto o non è giusto in un Paese che vorrebbe definirsi normale che le intercettazioni del Presidente della Repubblica e di Mancino debbano essere cestinate, le intercettazioni di qualcun altro debbano essere sputtanate su ogni organo di informazione? È giusto o non è giusto che un Paese debba subire non soltanto, tra virgolette, Berlusconi, ma anche Grillo, per cui la litizzetta fa la comica a danno di Berlusconi e Grillo fa il politico facendo il comico a danno di Bersani, che catena e che paese. A domani.